Gentili telespettatori, buona giornata. Questa notizia è appena arrivata. Nuovo caso in Rai. Serena Bortone e lo specchio autografato da Michelangelo Pistoletto, un specchio autografato in diretta tv, portato a casa di Serena Bortone. Ah sì, Caspiderina. Ancora lei al centro dell'attenzione dopo le polemiche sul caso Scurati, presunta censura, non si è mai capito se poi c'è stata o no, e il suo praticamente allontanamento dai palinsesti tv è finita in radio, ovviamente sta pagando il conto di aver parlato dell'azienda in maniera impropria sui social, eccetera eccetera, e quindi ovviamente non è stata cacciata dalla Rai, non è stata licenziata come si farebbe in qualunque azienda privata, dove in un'azienda privata se tu ti metti contro la tua azienda hai finito, il Rai non l'hanno mandata via perché poi i sindacati, l'opposizione, allora l'hanno tolta dalla televisione e l'hanno messa in radio invitandola praticamente ad andarsene. E' un gentil invito a capire che non è più gradita, questo è il punto. Adesso arriva questo caso, uno specchio firmato dall'artista Michelangelo Pistoletto, che riporta la conduttrice Serena Bortone al centro dell'attenzione. Oggi il Fatto Quotidiano pubblica la notizia, 14 marzo 2023. Trasmissione Oggi è un altro giorno su Rai 1, in cui l'artista maestro dell'arte povera, ospite della conduttrice per parlare delle sue ultime creazioni, in quell'occasione Bortone porse a Pistoletto uno specchio posato su un tavolino dello studio, ricordando una delle sue tecniche, quella appunto di utilizzare quei supporti. All'artista fu chiesto di spiegare in diretta il significato del terzo paradiso, eccetera eccetera, una riconfigurazione, dicono, matematica dell'infinito. E così Pistoletto ne tratteggiò la sagoma di questo terzo infinito paradiso matematico, eccetera eccetera, fece praticamente su questo specchio questa sagoma sul vetro e commentò «Tutto può diventare opera d'arte, io questo poi me lo porto a casa, è mio lo specchio». L'artista, le cui opere sono quotate anche milioni, pareve stare allo scherzo. «Il prezzo poi lo vediamo», disse, perché l'abortone disse «lo specchio è mio», no? Qualcuno deve essersi ricordato dell'episodio ritrovando quello specchio in una foto apparso su Repubblica in un servizio sulla casa della conduttrice. E questo infrange il codice etico della RAI? Ecco, alla voce professionalità si richiede che ciascun esponente, aziendale, collaboratore non può sfruttare nella vita sociale la posizione che ricopre per ottenere vantaggi economici o di qualsivoglia genere, ovvero utilità, che non gli spettino? Ecco, al momento la RAI non sembra aver reclamato nulla. «Lei non dice nulla, la giornalista, i suoi collaboratori ricostruiscono e dicono fu un'idea concordata con l'artista. Lo specchio messo a disposizione della produzione era brutto e Bortone, sapendo come si sarebbe svolta l'intervista, ne aveva portato uno della nonna dalla casa di Anzio. Fu scelto il suo, tutto alla luce del sole, con tanto di affermazione della conduttrice che dichiarò pubblicamente che lo specchio sarebbe tornato a casa sua. Dal suo entourage chiedono, si deve considerare a loro un bene anche un autografo di un autore su un libro? Beh certo, immaginatevi che la Bortone avesse portato un libro, quello lo autografa, si porta il libro a casa e diventa un qualcosa contro il codice etico della RAI. Diciamo che sono sicuro che la RAI avrà interpellato i suoi avvocati per capire se è una cosa che è fattibile, non è fattibile. Certo che se tu però premediti, adesso faccio un discorso generale così non c'entra nulla quello di Serena Bortone, un discorso a parte, una riflessione su casi di questo tipo, se tu sai che è un artista famoso e che i suoi disegni possono arrivare a valere milioni, naturalmente se tu porti un foglio bianco da casa, sei il conduttore, porti un foglio bianco e sfrutti il fatto che hai un ospite famoso e gli dici dai sul foglio bianco scarabocchiami qualcosa e poi te lo porti a casa, lo incornici e sai che quella cosa lì potrebbe valere centinaia di migliaia di euro, insomma forse hai sfruttato la tua posizione per avere un'opera d'arte che poi puoi rivendere, insomma è come se io fossi un conduttore televisivo e ogni ospite artista porto un foglio bianco e dico dai scrivimi qualcosa, poi vai a casa e te lo incornici, insomma ricevi non lo so personaggi famosi, ti fai scrivere qualcosa su un foglio e poi archivi tutto per crearti un portafoglio di piccole opere d'arte, arriva un altro famosissimo e dice guarda questo è il mio foglio, l'ho portato da casa, fammi un bel disegno che poi me lo attacco al muro, lo incornicio, insomma vedrà la RAI se c'è qualche infrazione, comunque la posizione dell'abortone ormai è quella, è finita alla radio, in radio ma ovviamente è un invito ad andarsene chiaramente, la RAI dice no no non è stata mica censurata l'abortone, ha un programma tutto suo in radio, certo che passare dalla televisione alla radio capite che è un demansionamento eccezionale, ovviamente è un invito ad andarsene chiaramente, quelle cose classiche che fanno le aziende quando non ti possono licenziare ti demansionano, ti mettono in un ufficio isolato da solo a contare le pecore, ecco, dice no no io mica ti ho licenziato, però il demansionamento è un invito a cercarti un altro lavoro chiaramente, quindi la situazione di Serena Bortone e il RAI è già questa, la RAI non ha bisogno di fare ulteriori demansionamenti perché più di così non c'è, dopo la radio non c'è nulla, pertanto probabilmente la RAI non procederà nella valutazione di questo, grazie a tutti e arrivederci, a presto.